Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darkfally Channel con un nuovo video sul canale Oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio dedicato alla FCK, ovvero la serie Fun Skin Kill di Country Strike Ovviamente ragazzi se sapete che cos'è questa serie e come si partecipa potete senza problemi schifare il video al minuto che vedete scritto qui davanti alla vostra faccia Mentre ragazzoli però prima di schifare cercate di lasciare un pollice in su per sostenere questa serie Per chi non sapesse invece cos'è la serie FCK, è una serie dove vado a portarvi una competitive in compagnia di 4 fan sorteggiati a caso Quindi se volete essere voi i prossimi partecipanti scrivete qui sotto nei commenti, hashtag FCK, staccate il vostro link che riporta il vostro profilo, il vostro rank, i giorni nel quale siete disponibili e direi basta Quindi se avete fatto ciò, dopo due giorni come tutte le cose che faccio sulla mia pagina Facebook ci saranno le foto dei 4 vincitori Tentoccio ragazzuoli, spero di non avervi annoiato e vi lascio a questa nuova comp, buona visione Ok ragazzuoli, nuova FCK con Claude, Vale, Hector e Gaben su Mirage Sperando di non beccare i cheater, perché prima abbiamo fatto una competitive su cobblestone e c'era gente che ha fatto 30 kill con 300 ore E ovviamente siamo senza prime e quindi ce li cerchiamo i cheater Vado su da Palace Uno B, due B Io non ho avuto manco il tempo di comprare questo round E penso che siano B a questo bundle Uno si è buttato a window Sto pushendo qui a destra, sono senza colpi Morto Una bench Morto da Palace E uno mi push a bench, penso Bella Vale Ultimo bench Bench Ultimo bench Ok, è lì Aspen, knife Odici di vita, quindi non fate cazzate È morto, miracolo Manco l'assist Gli avrò tolto 38 in 5 Io l'ho sempre che metto ramp Questi sono underpass Uno B, ragazzi Un po' tocca, è sin salto Altri due Un'altra ancora Meno 40 in 2 di 3 camioncina Vai Cloud9 Oh, è circondato Un'altra side Che action Proprio lui Attenzione Mi hanno smockato Abbiamo smockato tu Cloud What? Mi restavo andando e gli ho fatto HS Ok, adesso no Dove sono quella bomba? Underpass Ok, comunque ecco, non l'ho detto Però c'è Vale che ha problemi con il microfono Come potete sentire Quindi la sentirete low Molto, molto low Sì, perché qui in appartamento ho flammato E non c'è nessuno Vada, scliar Bella Vale Dove è arrivato quella? Ah, qua sotto Eh, thunderpass sono arrivati Sono B? No Eh, con la Desert Eagle What? Eh, ragazzi non li pushate Perché basta che spammo di Desert là sotto Vi becca Sì Ho visto Ma che cazzo Come è messo? 1B ragazzi è entrato Ok La bomba forse è tornata in B Sono in 2 No, attenzione Oh, vale Era Cloud Hector, uno ce l'ha a destra Pushato Dai Ah, cazzo Abbiamo pushato sto round C'era uno che Non so quanto sia arrivato là dietro Negas va Negas va Negas va Voglio infierire Va bene Io vi tengo il connector Però dovevo stare coperti No, guardatemi i palace Ce l'ho i rampe Ok Qui è libero Ok, ok Qui è libero? Ok Non è vero Ok, attento da underpass Ora è libero Eh, attento da underpass, purple Perfetto C'è una WP mid Guarda di smoccarlo Ok, uno mid Mi ha incendiato Vadoo, questo è una Come era in revenge Sta E mannaggia lo spray Eh Palace Arriva Palace No, B Cazzo Meno 23 in 1 Sta pushando Alla WP Ah, 60 HP Era in posizione di vantaggio No, no, sopra A 50 HP A sinistra Già Vale Si è buttato forse Si, l'hai visto? 50 HP Vai Claude è tuo Ah, 50 HP Ah Ecco Ok, grazie Vale, tu non pensare al connector Pensa da Eh, uno connector adesso Adesso pensaci Ok, niente Too late Cazzo, uno da dietro Da dietro dove? M4 di merda Uno connector meno 95 ragazzi Facci di pistola Gaben È morto, niente Meno 95 Questa schifo star Hanno puntato il B Bella Ok, è andato verso bench Beh, è bench Ha flashato Bella Bella Ma che hai bene lo smuff, giusto? Si Ok Non ho smoccato a caso A A caso? Mi ha pushato col più 90 Cavolo Eh sì, erano in ego Quindi hanno pushato Due site, uno con connector Uno è dietro il muretto delle scale Guarda come pusha No, l'ho preso la gamba 83 in uno Eh, Green ti sta aspettando? Eh, sotto Sotto cosa? Dai Non l'ho hittato Vabbè, la si l'ha vista, penso Dove è arrivato a Messina? No Dove è arrivato quello? Sono arrivati da Pallas Vattene, vattene, vattene Ormai salvo Cloud Bella Che è molto il loro Eh, underpass di nuovo Underpass di nuovo Mi hanno smoccato a B, ragazzi Male Stiamo arrivando a connector Eh, gente a parte Entra, ragazzi Non posso ammazzarla Di Fai B qua Alla WP Bella Non più Ma che è in sto qua il gioco di Mach 10? Trolla? Sarà in force L'arma di Pascia WP Passi Arriva Sono all'arco comunque Manco la kill mi hanno voluto dare Guardo giù da Kitchen Ok Meno 89 in due Che ho un tappato di tech Mi fa male Bella Mannaggia a me che guarda la minima Ah, sta pushendo uno Quello meno 89 Bravo, forse la mazzi vale Guarda la minima fa sempre Due assist da parte di fan del London Sì, adesso Quello da tocciono la bomba in connector Eh, arrivano con connector Ma ha fatto questo povero la visuale? Che hai visto? Hai visto? Si è spaventato tantissimo Oh, che molli del caccio Uno con connector E uno qua a destra Eh, non l'avevo visto In questo studio solo le gradi si rompeva L'ultimo window E' era qua? No, è là Ma chi è con la flame in mano? Che tardo Però là Si è buttato giù Bella No, la flame in mano Dove smocchino? Eh, hanno pushato di seme No Con tanta ignoranza Bella, Gaben Lantano Meno 27, meno 26 M4-1s, sì Uno firebox Morto? Uno ninja Ninja, uno No, è morto Ah, ninja No, era una diversiva L'ultimo CT L'ultimo CT Ok Era nella smoke fermo Fino van Uno defusi Tanto spararò di sicuro a caso Dietro la smoke Dietro la smoke Dietro la smoke Perfetto Non so quanto gli ho tolto NICE Diciamo che la granata fa comunque fumo Eh, il problema è che l'ho appena messo sullo smartphone e non mi funziona Cioè, almeno mi compra le cose Non ne hai dato qua Uno all sight Un'altra ancora Vedo un'ombra, però non so se è uno Uno scalette morto Uno da una Uno da una Uno da una Bella Un altro connector Uno viene da city da connector Connector E uno in middle Connector Bella Un CT Un CT È l'ultimo City Bella Spastati Due Salaman Uno Entriamo Uno verso scalette E attenti in buio Che ora è una sopra Buio Scalette Una jungle Bella Una motana Vale ma Tu infierisci i suoi nemici Che finora L'ultima è jungle Ho 10 di vita Se lo mazzi Pino a te ti banno È ignorante Ah ok Allora è giusto È andato verso Tana Verso Pien È andato in realtà Ah no Era nascosto dietro il muro Ok Raga che ci crede Era che lì in mezzo Io Però sono CT Bush Io non ci credo Uno è qua a sinistra Preso Di te vale Ci hai creduto abbastanza Ah l'hai preso Nois Sì Però con lo short no Cart shot Improvviso la flash Vediamo se funziona Non funziona Ragazzi non gli pushate Io 10 di vita E vale ne ha Oh te A destra Che ho paura Attento a destra Eh lo so ma Eh infatti è qua Per l'ultimo dovrebbe essere Fa cover lo hitato Bella M4 1S Sì L'unica armada dovrebbe esistere Uno sulla scaletta Uno verso i site Mi hanno sbagliato la smoke Sì però hanno azzeccato l'incendio Aertost Veloci ragazzi Uno è sopra si è fatto sfruttare E' morto E' morto quello so Vi ho fatto una scelta wall bang random Uno Tana Uno connector Connector E' uno city Connector e city Ok Ultimo city City Prendete la bomba E' plantata la cover Grazie P90 master Questo è master P90 Gioca solo con quello Nasconditi Arriva Puzza Ok nice Riprendiamo A prendere mazzate Se dobbiamo andare under Passa una brutta scelta Proviamo andare in B Sì dovrebbe essere solo uno Guarda come ora Non fatevi sentire Ha pushato Pushato Give them a dance Dai ma guarda questo Che c'è Sì lo so è assurdo Uno è short Veloci guys Ma ok Meno 32 in due E' legale sto colpino P90 Short Bella Ottimo Corri No Due sopra Sono Uno già ti ha pushato A sinistra Vabbè Non sto a fare nulla Veloci Allora a sinistra E' clear Uno site Ragazzi Uno site Bello è morto Uno window 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 Cos'è window? Jungle Jungle Ah E lo sappiamo E' un drop Aspen Sei provato ad andar via Eh ma E' un altro ct Che dici di vita Hanno flashato Ah ma ho flashato Uno site E' uno sopra le scalette Cazzo Uno scale Ha caricato Sotto il te Ultimo sotto di te Non ricordava Eh si era sentito La caricava Però non avevo capito Ben dove Hi cloud Veloce 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 Ne lo so Hittato Bella è morta la WP Uno short C'è uno connector Connector Hittato Hittato Eh io non potevo branderlo Non potevo branderlo Non potevo branderlo Non potevo branderlo Oh una WP Una WP Hittato Eh ma il problema è che c'è il Mr. P90 Ah cazzo Però Hanno era lì 270 270 Ok Uno short push Ascite di B Con lo short 70 Vai vallo a plantare Dove? Eh ma l'ho ammazzato con lo short Ma erano due No dico Hector Dico Hector Sinistra Sinistra Appartement Ma fanno No tutti col P90 72 in 3 Io ho tolto Tutti col P90 Ah comunque non era appartemento l'altro Vabbè No io ho il P90 Vabbè Questo è il matchmaking Quanto sempre Penso a Prime Vabbè penso anche col Prime Che sono il P90 La Chrome 3 Ah che bella Che nuove griglia bellica La desideravo tanto Vedete adesso che rank era Quel pendel Che stava facendo 0 kill E la fatta 23 alla fine 23 di P90 Lo so Infatti Va bene Quindi ragazzoli Quest'altro episodio dell'FCK Ovvero della Fanskine Kill E' finito qui Tanti polliciaci in su Per sostenere questa serie Hashtag Fanskine Kill E ovviamente tutte le cose Che già vi ho detto Se vorreste essere voi I prossimi partecipanti E niente Ci becchiamo poi Questo pomeriggio Come sempre Almeno spero Con un nuovo video sul canale Ciao ciao ragazzi Grazie a tutti i nostri canali